Bitonto TV nelle sue tappe di avvicinamento al fatidico giorno del 18 maggio dell'arrivo della tappa del Giro d'Italia a Bitonto incontra oggi il vicepresidente regionale della Federazione Ciclistica, Tommaso De Palma. Signor De Palma, è un grande risultato per la Federazione regionale avere un arrivo di tappa e poi anche una partenza di tappa il giorno dopo da Lucera per la Puglia, la Federazione Pugliese? Ma certamente, io sono molto soddisfatto da un lato ma soprattutto mi rendo conto che ormai è iniziato il countdown quindi vedo un crescendo di iniziative e a questo riguardo voglio ringraziare anche voi che so che avete allestito un sito proprio ad hoc per dare tutte le informazioni. Quando accadono queste cose vinciamo tutti, vinciamo tutti insieme, nessuno ha dei meriti particolari. Chiaramente noi, essendo più del settore, abbiamo magari nella prima fase cercato di spenderci un po' di più per far sì che la Puglia, ma soprattutto la terra di Bari perché vorrei ricordare che dal 1990 che in provincia di Bari non c'era la partenza o l'arrivo, il famoso Giro del 90 vinto da Gianni Bugno con partenza sul lungomare di Bari quindi una provincia importante come quella di Bari, incastrata in una regione importante come la nostra, secondo noi non poteva più attendere ed è per questo che io sento di voler mandare veramente un ringraziamento caloroso all'amministrazione comunale di Bitonto in maniera particolare al mio caro amico Mimì Pantaleo che hanno subito compreso l'importanza di quello che si doveva fare e anche la giustezza di quello che dovevamo fare. D'altra cosa una grande vetrina per la terra di Bari perché la diretta inizierà più o meno con l'arrivo nella zona di Molfetta del Giro d'Italia, la diretta di Eurovisione quindi una grande vetrina anche per le immagini che potranno essere diffuse in Eurovisione della terra di Bari Sì, su questo vorrei anche fare una precisazione in più, noi abbiamo fatto veramente un grande lavoro, una grande pressione ai vertici della RCS perché loro inizialmente la tappa volevano farla transitare dal Castel del Monte e poi arrivare tramite la 231 ex 98 direttamente a Bitonto questo non avrebbe reso merito alle bellezze che abbiamo, alle nostre cattedrali e ai nostri centri storici perché avrebbe tagliato fuori tutti i paesi grazie al comune di Bitonto e diciamo alla buona volontà del patrono Angelo Zomeniana abbiamo modificato il tracciato che vorrei ricordare, siccome la diretta entrerà due ore prima dell'arrivo, crediamo che già dall'altezza di Andrea saremo in Eurovisione ma non solo, sono 141 i paesi che poi prendono le immagini del Giro d'Italia, quindi immagino città come Andrea, Corato, Ruvo, Terlizzi, Molfetta, Giovinazzo e poi chiaramente Bitonto, me le immagino già proiettate con i nostri mari, le nostre cattedrali, i nostri centri storici credo che sarà veramente una bella cartolina da spedire in tutto il mondo La Federazione Pugliesi si sta organizzando in qualche maniera, qualche iniziativa particolare per gli amanti pugliesi del ciclismo oltre a questa bella manifestazione di oggi? Certo, queste sono tutte attività propedeutiche, noi ora stiamo iniziando a lavorare per arrivare con un crescendo la nostra, lei ha detto bene, è un momento particolare perché abbiamo vissuto anche una tragedia particolare ma che ci, voglio dire, proietta in una maniera particolare non tutti sanno che nel quartiere San Paolo di Bari esiste l'unica scuola al mondo di ciclismo chiamata Franco Ballerini perché è inaugurata da Franco quando lui era in vita era il 28 maggio del 2009 Franco è stato sempre vicino a noi in maniera discreta, sotto traccia, senza grandi clamori ma vera, autentica era un esempio per queste decine di bambini e in sua memoria noi sfileremo prima dell'arrivo del Giro d'Italia un paio d'ore prima, credo già quando saremo in diretta a TV tutti potranno vedere quello che Franco avrebbe voluto fare lui voleva sfilare quel giorno con i bambini del San Paolo per regalargli una ribalta internazionale noi faremo esattamente tutto quello che lui aveva deciso di fare e ci piace pensare che il fatto che non sarà lì fisicamente presente sarà solo un dettaglio perché dovunque lui sia sono sicuro che sarà dalla nostra parte approfitto anche per dire che il giorno prima, il 17, intorno alle 20 nel centro di avviamento del ciclismo, Scuola Ballerini al quartiere San Paolo, precisamente dove c'è la sede della circoscrizione inaugureremo Piazzetta Ballerini e sarà inaugurata la presenza di sua moglie Sabrina Ricasoli che è una nostra grande amica perché i nostri rapporti andavano molto oltre l'aspetto sportivo ma eravamo ormai un tutt'uno Franco era un pugliese doc a tutti gli effetti Un'ultima notazione diciamo tecnica Che tappa è l'Avellino Bitonto e quali sono i campioni che potranno ammirare i pugliesi al passaggio dalle loro strade? Sì, io credo che dipenderà molto da quello che accadrà i giorni prima ci abbiamo il Terminillo, ci abbiamo altre tappe impegnative penso a quella in Toscana che vedrà gli ultimi chilometri sul percorso dell'eroica, della Montepaschi quindi sulle strade bianche se ci sarà qualcuno che avrà perso terreno parlo di gente che è interessata a fare la classifica probabilmente potrebbe tentare anche dei colpi di mano perché da noi il vento può giocare un ruolo fondamentale quindi potremmo trovare colpi di mano e dei ventagli eccetera eccetera se invece sarà una tappa di recupero, fra virgolette, dopo le prime fatiche prevedo che andrà via una lunga fuga dall'inizio poi il gruppo si metterà in moto negli ultimi chilometri per cercare di lanciare la volata però attenzione, l'arrivo di Bitonto per come è concertato è un arrivo non per velocisti puri per capirci alla Mark Cavendish se ci sarà io prevedo che sia un arrivo che possa presentare anche dei tentativi di gente passista, veloce, molto forte un nome su tutti mi viene in mente Filippo Pozzato per dire un nome, il nostro campione italiano però anche Petacchi, visto alla Sanremo sicuramente potrebbe essere uno dei grandi favoriti Allora in bocca al lupo e ci vediamo il 18 maggio Assolutamente, ma anche prima il 16 a Bitonto c'è un'altra manifestazione tipo questa che vedrà tanti bambini coinvolti vi aspetto tutti là Grazie, buon lavoro A voi, grazie Francesco Campione dello Stadio della Vittoria per Bitonto TV e il Giro d'Italia